Buonasera a tutti e benvenuti ad una fantastica night session su bitcoin. Come avete visto nel breve possono fare quello che desiderano ma alla fine l'evoluta continua a prevalere nel medio e nel lungo periodo. Perché? Innanzitutto, dato che aspettavamo sto baffo di chiusura, questo t-3 inverso ribassista appunto, ovvero che facesse una gambetta all'insù, eccovelo qua, ve lo presento, ottavo t-3 inverso. Eccolo qua. Fatto, abbiamo iniziato di nuovo a riprecipitare. Perché? Perché? Perché possiamo sempre essere o su un t-3 settimanale ribassista, partito da qui, che ha provato a risalire a una forma orrenda ma che, se dovesse essere confermato, ci porterà sotto il minimo a 18.256 dollari. Oppure, in ogni caso, questo è un mensile ribassista che continuerà a far rimbalzi il gatto morto, eccoli qua, e poi tornerà a scendere. Se questo dovesse poi essere il decimo, undicesimo, raccordo e nuovo t settimanale. Queste erano le due ipotesi che vi raccontavo nelle scorse analisi. Innanzitutto, questa candela ci serviva per andare a chiudere appunto il settimanale. Fa ne partire probabilmente uno nuovo, è arrivata, bastava questa, in realtà, ma come al solito vogliono esagerare, vogliono buttare fuori le persone dal mercato. Persone che, tra l'altro, come vi ribadisco sempre, se guardano il sentiment, non sanno che cosa fare. Sondaggio. Oltre 580 persone hanno risposto a questa domanda. Questa sera, la decisione sui tassi della Fed. In base a quest'unica notizia, come vi posizionerete su Bitcoin? 13% andrà long e ha preso mazzate, se non è uscita rapidamente. 14% andrà short, prima che è scaldato. Se non ha messo uno stop loss stretto, è andata a guadagnare. 7% non lo so. Il 66%, forse anche parzialmente condizionato dal fatto che è sul mio canale, ha detto rimarrò flat e mi muoverò dopo. Ovvero, se devo guardare le risposte che vengono date, sono in totale parità. Cosa faccio se guardo il sentiment? E ci sono delle persone che mi dicono, quando vedo il sentiment positivo, vado short. La cosa più divertente è proprio fare questo genere di esperimenti e farvi vedere quanto il sentiment sia completamente inutile rispetto a che cosa? Rispetto a fare trading con l'evoluta, mensile ribassista, settimanale potenzialmente ribassista, cosa faccio? Faccio più short che long. Anche se fossi stato qui, mi beccavo contro una candela, ma poi me la godevo tanto. Anche perché, oltretutto, di nuovo, tutti i tempi sono rispettati e questa è la cosa incredibile. Guardate qua, 43 bar. Devo ancora lavorare su questa centratura perché non mi piace assolutamente per niente che ci sia una violazione iniziale e poi si torni su tantissimo e poi si torni giù. Ma l'abbiamo già visto altre volte su Bitcoin. Oltretutto, se andiamo a rivedere anche da qui la partenza, vedete che siamo a 41 bar. Siamo sempre nei tempi corretti. C'è poco da fare. L'evoluta ti porta a fare un guadagno. Il resto, come il sentiment, ti lascia molto perplesso, diciamo. Aggiungo un'altra cosa che è ancora divertente. Prima che arrivasse il dato, ecco qua, tre ore fa, tre ore qualche cosa fa, basta che andate a vedere quando è partito in realtà video, avevo segnalato che comunque il Nasdaq è in una situazione niente affatto buona. E lo è tuttora. Come l'esempio 500 sono tutti indici che dico che potrebbero non fare una bella fine, non soltanto nel breve ma anche nel medio periodo. Per cui mi sono tra virgolette esposto dicendovi prima che arrivi la Fed che sono più disposto ad andare a ribasso che rialzo. Vi lascio guardare il grafico del Nasdaq, non lo farò vedere qui. Terza cosa interessante. Torniamo al gruppo premium. Sul gruppo premium che cosa ho segnalato questa sera? Ho segnalato che cosa? Inizia adesso c'è una candela di top che mi piace. Se la forma rimanesse questa, in violazione, se la candela successiva violasse il suo minimo di chiusura, entriamo con un primo chip short di medio periodo se, se non teniamo la Fed, e questo è un se gigantesco, a voi la scelta. Ma di Long non se n'è mai parlato. E infatti chi ha tradato col future è già in gain. Chi è entrato questa sera, prima della chiusura, vediamo domani come apre. Quindi per l'evoluta c'era un solo segno, meno. All'inizio tutti possono avere un attimo di spavento, ma poi arrivano i nostri, ovvero gli HFT. Adesso che cosa possiamo fare? Di che cosa parliamo? Parliamo di poco. Vi rimanderò probabilmente a domani mattina per il fatto che qui siamo arrivati a 43 barre, quindi dobbiamo aspettare di vedere se fa ancora, oltre a questa, una barra ancora più ribassista. E poi se finalmente ci si prepara un long, che potrebbe durare ben poco, perché qui farò ancora i miei controlli, ma è già probabile che stia partendo appunto un T settimanale. Lascio che il momento trascorra, che l'effetto temporaneo, soltanto temporaneo, come abbiamo appena dimostrato, temporaneo non di medio e di lungo periodo, abbia effetto. Perché avevo detto, Nasdaq rischio short, S&P rischio short, su DAX ci siamo messi short. Su Bitcoin il senso è short con un mensile ribassista, in ogni caso l'evoluta batte anche i dati della Fed. Va anche oltre quello che è il sentiment che ci dice, boh, non lo so, 50% vado long, 50% vado short, 66% non faccio niente perché preferisco che sbollisca la faccenda e il resto non lo so. Questa nei fatti è la valenza. Quindi, aspettiamo di vedere un rimbalzo, vediamo che cosa succede. A quel punto però, ribadisco, qui c'è ancora il nostro dubbio e potrebbe essere un rimbalzo anche di nuovo che dà fastidio perché primo T-2, secondo T-2, un altro T-2, quindi più forza rispetto a un semplice T-3. Se partisse un solo sesto T-3, se verrà confermato appunto il T settimanale, non avremo un rimbalzo particolare e valuteremo di nuovo o di shortare i top o di shortare quando ci sarà una violazione di minimo per il discorso degli swing che sono ancora più sicuri. Con queste evidenze incontrovertibili vi lascio, vi racconto che come al solito stiamo inserendo ancora tante persone nel gruppo premium, siete veramente tanti. Se pensate che non vi abbiamo ancora risposto andate a controllare la casella dello spam, fate tutti e quattro i passi che bisogna fare se non verrete mai ammessi. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. La mia lo sarà sicuramente perché vado finalmente a dormire. Buona serata!